ragazzi alziamo le mani per il video per il video che finirà su youtube tutti su con le mani Andrea è sempre al massimo buonasera e benvenuti allo station inizia a suonare per voi in questo momento io vorrei sentire l'urlo dello station per Andrea Rossini direttamente da Radio Company è una stagione formidabile alla Corte degli Angeli di Verona suona allo station club Andrea Rossini ready io vi rinnovo l'invito per sabato prossimo Salvatore Angelucci e Enric Forni mi chiede la notte le mani che si alzano al cielo tutti tutti con le mani al cielo io penso che sarà la hit del momento la hit dell'inverno 2011-2012 io vi rinno di un'altra io vi rinno di un'altra io vi rinno di un'altra Without you Without you Oh I can't relax I can't fight All I need is you And I Without you Without you Without you Special 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 Special